Sarà un Natale senza botti a Cosenza, già perché anche quest'anno il sindaco Mario Chiuto ha emanato un'ordinanza con la quale ha vietato l'uso dei botti natalizi fino al 2 gennaio su tutto il territorio comunale. L'ordinanza è finalizzata a evitare che l'utilizzo degli ordigni possa provocare danni a persone e cose. Il divieto riguarda l'utilizzo di qualsiasi tipo di materiale pirotecnico in un luogo pubblico, in un luogo privato, da cui possa accadere su luoghi pubblici. Nel periodo indicato nell'ordinanza è vietata anche la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico e soprattutto ai minori di 18 anni. Non sarà dunque un Natale col botto, quello cosentino, perché il divieto non riguarda solo i luoghi pubblici ma anche le aree private. Non solo i proprietari di vedute, balconi e lastrici solari dovranno anche vigilare per evitare che chi che sia possa utilizzarli per sperare botti ritenuti pericolosi. Stangata per i trasgressori, le sanzioni saranno piuttosto salate e vanno dai 25 ai 500 euro.